In sette giorni i contagi Covid in Italia sono cresciuti del 34%, più 4,5% i ricoveri, i numeri del monitoraggio della Fondazione Gimbe destinati ad aumentare si legge anche a causa dello stop alle mascherine sui mezzi pubblici. Non decollano le quarte dosi. Tasso di copertura nazionale al 17% con nette differenze regionali dal 7,7% della Sicilia al 28,3% dell'Emilia Romagna. Il presidente Gimbe di No Cartabelotta si rivolge al nuovo esecutivo e chiede comportamenti virtuosi ed adeguamenti strutturali senza compressione delle libertà individuali. Grazie a tutti.